Troviamo in via Guzzafame 60B a Vigevano, inaugurazione ufficiale oggi per i nuovi laboratori CIMAC. Abbiamo con noi la presidente di Asso Calzaturifici, Anna Rita Pilotti, a cui chiediamo un commento su questa novità. Beh, io quattro anni fa, quando sono stata eletta, non era nel mio programma il CIMAC, ma alla prima visita subito dopo, quindi credo nel mese di giugno o luglio, ho visitato la vecchia sede era una sede diventata molto stretta per la capacità del CIMAC, quindi un laboratorio a gusto, uno spazio molto ristretto, un po' obsoleto. Subito ho voluto cercare una nuova sede e oggi, dopo tanto impegno da parte sia dell'amministrazione, ma anche di, soprattutto del nostro associato Martinoli, la dottoressa Crespi, abbiamo trovato questo spazio, ci abbiamo investito e oggi questo fiore all'occhiello, che posso dire sia che è mio, che ho voluto fortemente, è anche un fiore all'occhiello, credo per tutto Vigevano e provincia, insomma, perché è un laboratorio riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Grazie mille. Prego. Grazie mille. Grazie.